Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla sesta puntata del Daily Songlog, la canzone di oggi è Morning Glory di Oasis, l'album Was The Story Morning Glory del 1995, quest'ultimo forse è l'album più di successo della band, nonché forse il più rappresentativo della corrente Britpop, questa forma di pop rock inglese diffusa nei 90 di cui oltre a Oasis i grandi rappresentanti sono stati i Blur e in forma minore, con minore successo i i Verb o i Pulp. Allora, Morning Glory, titolo track dell'album, sicuramente un brano dalle sonorità più energiche e più trasgressive in confronto ad altri brani presenti nel disco, su tutti, per citare i due più famosi, Dolo Beck and Anger e Wonderwall, dalle sonorità sicuramente più sentimentali e più romantiche. Allora, da un punto di vista melodico interessante è l'intro, l'intro con questo rumore di elica, di elicottero, ripresa e che rimanda comunque all'intro di One Day The Metallica, questo rumore di elicottero seguito da la chitarra e poi dalla batteria e assolutamente digni di nota sono i due assoli, il primo dopo il primo ritornello e il secondo nel finale della canzone. Il brano è stato scritto da Donald Gallagher, principale autore dei brani di Oasis, quando era ubriaco. Difatti il testo fa riferimento al risveglio spesso traumatico, mattutino dopo una notte brava a base presumibilmente di alcol e droghe, tra l'altro appunto notte standard, lo standard delle notti che passavano gli Oasis in quel periodo. Poi appunto all'uso delle droghe va a fare riferimento nel testo, soprattutto all'uso della cocaina, quando dice, tradotto in italiano, tutti i tuoi sogni vengono fuori quando sei incatenato allo specchio con la lamenta, appunto per indicare il processo indicato a tagliare la cocaina. Poi un'altra cosa interessante nel testo è un riferimento a Tomorrow Never Knows dei Beatles, esattamente appunto nel verso Tomorrow Never Knows what it does and not to sun, che è appunto tradotto in italiano, il domani non sa mai ciò che non sa troppo presto. Tomorrow Never Knows è una delle canzoni più interessanti, anche questa va dei Beatles, fantastica, probabilmente appunto la canzone che più di tutto incarna l'influenza del rock psichedelico in quel periodo di fine anni 60 dei Beatles, canzone contenuta nell'album Revolver, probabilmente il mio preferito della band di Lennon, McCartney e Harrison Star. Allora, Morning Glory è una canzone forse un po' sottovalutata nell'album, perché di sicuro non ha raggiunto il successo di altre, come già citate, Dolo Beck and Anger, Wonderwall, la champagne supernova, canzoni anche queste qua fantastiche. È una canzone che merita di essere ascoltata, comunque sia, è stata proposta in quasi tutti i loro concerti dal tour di What's the Story of Morning Glory in poi, e qualora non l'avete ascoltata vi consiglio altrimenti ascoltarla. Come ho detto, è una canzone più energica, più trasgressiva, un po' diversa dalle sonorità di altre canzoni degli Oasis. Gli Oasis, fra l'altro appunto, sempre riferimento ai Beatles, forse è l'unico gruppo che negli anni anni, anni 90, ha avuto una popolarità uguale al gruppo autore di capolavori come Sargent Ollie, Pepperdine, Band, come White Album. Come ho detto, i Beatles, la band che più di tutte ha pareggiato il ruolo tra essere una band molto influente per l'evoluzione, per l'importanza della storia della musica e il successo che ha raggiunto. Allora, dopo questa piccola parentesi, il link della canzone ve lo metto qui, ditemi che cosa ne pensate con un commento riguardo Morning Glory dei Oasis, qualora il video vi sia piaciuto mettete mi piace e condividetelo, e sempre qui sotto vi ricordo tutti i miei link per trovarmi su Facebook, su Twitter, le pagine che mi pubblicizzano, il sito e il canale di Jack Jones, che come al solito appunto mi fa la copertina, l'immagine di copertina del video e il canale di Little Monkey che mi fa, che mi ha fatto la sigla. Ciao a tutte, a domani con una nuova puntata del Songlog. Ciao!